Bambini, mi è venuta un'idea. A casa non bisogna annoiarsi e bisogna far lavorare un po' il ciambello. Allora ho pensato di fare un gioco di magia e di dedicarlo a voi. Ho trovato alcune cose, una vecchia tazza e una pallina rossa. E una bacchetta magica, una bacchetta magica un po' inusuale. Il cucchiaio per fare la minestra. E questo avevo a casa. Vi faccio vedere che la tazza non è bucata, assolutamente. Anzi, vi faccio vedere anche di qua, eh? Non è bucata. Signori, attenzione, questo è il gioco della pallina rossa e della tazza. Attenzione, eh? Primo gioco. Uno, la vedete? La pallina rossa si vede, signori. Ve la faccio vedere bene. Si mette qua la pallina, si dà un colpo piano, tac, e la pallina visibilmente è passata sotto la tazza. Signori, possiamo riprovare. È facilissimo. Si prende la pallina nella mano con la bacchetta. Uno, due, tre. E la pallina è sparita, signori, perché è tornata invisibilmente sulla tazza. Possiamo provare. Possiamo mettere la pallina in tasca. Dare un colpo, tac, e la pallina, invisibilmente dalla tasca, ritorna nella tazza, signori. Questo è un gioco incredibile. Si può riprovare. Mettere la pallina in tasca, dare un bel colpo. Aia, così fa male. Un bel colpo. E guardate dove è finita la pallina, signori. Noi possiamo continuare. Pallina in tasca. Un colpo. Aia, ho detto piano, troppo forte. Ecco, vedi cosa succede se uno dà troppo forte? Diventa una pallona. Una pallona. Signori, vi voglio far vedere che però non è una palla. Non sono due palle come cimbra. Ma per fare questo gioco, signori, ci vuole... Wow! Tree ball! E con questo vi saluto e mi metto a preparare altri video per voi. Ciao a tutti i bambini! A presto!